Ciao! Buongiorno! Ciao! Siamo qui alla sfilata di Marni, non fa tanto freddo stamattina, è abbastanza insomma si può stare, 5 gradi, e siamo contenti, c'è tantissima bella gente in giro, non siamo affatto stanchi? No, per niente, neanche un po', come si vede dal nostro visaggio, sì, esatto, bella statissima, esatto. Un saluto per la telecamera, ciao!